Francesco Monte è uno dei concorrenti più attesi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018. I suoi trascorsi gli permettono, infatti, di trattare vari argomenti, tra i quali non può di certo mancare la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. . Sebbene tale avventura sia stata breve, per le ben note conseguenze del Cannagate fu comunque molto intensa, anche grazie ad un fatto legato a Craig Warwick. A raccontare alcuni dettagli dei colloqui con il sensitivo, è stato lo stesso Monte ieri notte nel giardino del GF. Parlando di fenomeni paranormali con le Donatella e Stefano Sala, l'extronista di Uomini e Donne ha affermato, vi racconto un segreto, una cosa che non sa nessuno. In pratica all'Isola Craig quello degli Angeli mi disse di avvicinarmi a lui perché doveva parlarmi. . Lui mi puntava e mi guardava sulla spalla. Io gli dissi che c'è? Fatto sta che mi parlò e mi disse una cosa di mia madre che potevo sapere solo io e mio fratello. Non lo poteva sapere nessuno, nemmeno mio padre sapeva di questo episodio. Io restai scioccato. . Francesco Monte crede alle visioni di Craig Warwick.A colloquio con i suoi compagni del grande fratello VIP 2018, Francesco Monte ha chiamato in causa un particolare inedito della sua esperienza all'Isola dei Famosi. . Craig Warwick, infatti, gli ha parlato di dettagli sconvolgenti sulla madre defunta, chiamando in causa alcuni argomenti che nessuno poteva sapere. . Non solo, era anche a conoscenza di un sogno fatto da Monte, mi disse tu ieri notte hai sognato tua madre. . Io non sognavo mia madre da tantissimo tempo e quindi gli dissi come fai a saperlo?. . Lui mi rispose, io lo so. Ragazzi i dettagli delle cose che mi ha detto sono stati allucinanti. . . Anche a Filippo ha detto cose simili e l'ha fatto piangere. Craig non faceva domande, sono loro che gli parlano. . Francesco Monte ha quindi aggiunto di credere alle parole dell'ex isolano, in quando a suo dire conosceva degli argomenti fin troppo specifici, io gli credo perché mi ha detto cose troppo nello specifico, però è stata un'esperienza davvero molto forte. . 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